Gli ha iniziato una storia bellissima Che è quello che poteva riempire il cuore e la vita dell'uomo Aveva bisogno di una relazione Che fosse quella che generava il senso della vita, l'amore Che Dio ha tirato un pezzo dell'uomo Perché l'uomo sempre sentirà il bisogno di andare a prendersi quel pezzo perché è mio E lei sentirà sempre il bisogno di tornare a lui perché sono sua Grazie 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 Debora, vuoi unire la tua vita alla mia nel Signore che ci ha creati i redenti? Sì Sì Con la grazia di Dio lo voglio Noi promettiamo di amarci fedelmente della gioia e del dolore Della salute della malattia che noi sostenereci nell'altro tutti i giorni della nostra vita Grazie 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 L'uomo non ose separare ciò che Dio unisce A me Puoi vazzare la tua esposa Grazie 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 Grazie